Mi è soddisfatto? No, quantunque l'epilogo è di fatto riconducibile a una positività di espressione da parte della magistratura di cui ho sempre riposto ampia considerazione. Due anni fa non mi sono ricandidato per rispetto alla magistratura, che si è trovata di fronte a una vicenda, a un ciclone vestito così definito in maniera energica dai carabinieri di penne all'esordio, ma che di fatto si sta rilevando un flop. In sette anni non ha prodotto, tra tutti gli indagati innumerevoli ed anche arrestati come me, non solo me, non ha prodotto una sentenza di accusa, cioè con l'istruttoria fatta che riguardava il reato più grave, a me ha scritto di estorsione, che quindi non si era prescritto, lì dove l'istruttoria si è completata addirittura il Pubblico Ministero ha chiesto la mia assoluzione e che mi è stata accordata. Gli altri reati su cui in maniera sciatta e stanca la procura in sette anni non è riuscita a fare altrettanto, cioè a distruire di fronte alla terna giudicante il gran lavoro presunto dare ai carabinieri di penne, lì il processo è rimasto appeso ad un filo, non certo per colpa delle difese e la terna non poteva che applicare la prescrizione.